L'ex aquater di San Lorenzo in campo avrà una seconda vita. Grazie a Enereco, realtà internazionale con una forte esperienza nella fornitura di servizi di ingegneria personalizzata, gli spazi abbandonati verranno riqualificati per creare progetti innovativi di economia circolare. Nascerà infatti un grande polo scientifico agrotecnologico di eccellenza sotto il nome di Ergeva. L'investimento iniziale sarà di 8 milioni di euro per acquistare il sito, recuperare il capannone industriale per le microalghe e avviare il sistema agrivoltaico. Una fase che, come spiegato dal presidente di Enereco Claudio Avaltroni, potrebbe chiudersi entro il primo semestre del 2024. Inoltre si stima un coinvolgimento iniziale di circa 20 persone, tra operatori, tecnici e ricercatori, per poi puntare entro il 2030 ad ulteriori investimenti per un totale di circa 20 milioni di euro. Andremo a produrre delle microalghe, quindi in ambienti assolutamente chiusi, assolutamente protetti, per il quale sostanzialmente non ci sono assolutamente emissioni. E poi uniamo a questa produzione di microalghe, c'è un progetto di agrofotovoltaico portato avanti insieme alla Politecnica delle Marche, che è appunto la volontà di perseguire, praticamente studiare la possibilità di avere la produzione di prodotti agricoli in un ambito assolutamente di sostenibilità e al tempo stesso coniugare la produzione di energia elettrica che possa essere poi ceduta alla comunità con dei vantaggi anche per la stessa comunità. La futura struttura sarà suddivisa in tre aree di interesse. Il laboratorio di coltivazione alghe, il parco agrivoltaico e la piattaforma di ricerca. Ergeva vuole creare un polo tecnologico che rappresenti il punto d'incontro tra le università, i centri di ricerca e il tessuto imprenditoriale del territorio, interessato ad intraprendere e condividere progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito della transizione ecologica, con particolare attenzione al connubio agricoltura, energia e ambiente. Da qui in avanti l'obiettivo è quello di creare un progetto in cui abbiamo due realtà produttive, in cui coniugheremo la coltivazione di microaghe per il mercato nutraceutico e farmaceutico, perché le microaghe saranno una fonte del futuro, un cibo del futuro, ma soprattutto un sistema per purificare regidui organici delle acque e quant'altro, ma poi coniugarlo con l'agricoltura, quindi avere una coltivazione di pregio del nostro territorio su delle filiere come la birra, come il ciliegio, coniugando la generazione elettrica da fotovoltaico sopraelevato, quindi avere sullo stesso terreno la coltura e il fotovoltaico, integrandoli con un'agricoltura 4.0. La piattaforma di ricerca invece, attraverso finanziamenti e bandi, sarà sviluppata in collaborazione con le principali università regionali, nazionali ed europee. Saranno previsti laboratori, visite didattiche e impianti sperimentali. Inoltre sono già state strette sinergie attraverso dottorati e convenzioni con l'Università Politecnica delle Marche, con l'Università degli Studi dell'Aquila e con l'Alma Master Studiorum Università di Bologna. Un progetto di sviluppo totalmente votato al futuro, futuro per i nostri territori, per i nostri giovani, per le persone che vogliono rimanere qua e vogliono farlo con convinzione, anche per le tante persone che dopo un percorso di studi importante, invece che magari andare fuori regione o all'estero, possono trovare lavoro in queste zone, in questi nostri territori. Un hub, un polmone di innovazione all'interno, nel cuore della vallata del Cesano, dal quale possono poi partire dei progetti innovativi per il resto della regione, della nazione e di tutto il mondo.